Loro il biglietto per Roma ce l'hanno già e per la prima volta non è il Partito Democratico a mettere in tasca dei candidati a retini l'agoniato tagliando almeno in provincia di Arezzo, perché invece a Bolzano Maria Elena Boschi è stata eletta principalmente con i voti del Partito Popolare Sud Tirolese. Ma andiamo con ordine. In terra a retina tra i vincitori dei collegi uninominali alla Camera c'è Felice Maurizio Dettore Forza Italia, che ha prevalso con il 35,1% su Marco Donati PD, fermo al 31,9%. Un altro a retino, anzi valdarnese, che stacca il biglietto per Roma è Stefano Mugnai, coordinatore regionale di Forza Italia e capolista al plurinominale alla Camera nel collegio di Arezzo Siena e Grosseto. Stesso dicasi per Chiara Gagnarli che era capolista per il Movimento 5 Stelle. Al Senato è il socialista Riccardo Nencini, fiorentino, candidato per la lista insieme nella coalizione di centro-sinistra, a prevalere nel collegio uninominale di Siena e Arezzo, con il 34,83%, staccando la candidata leghista Tiziana Nisini, che si ferma al 33,87%, una manciata di voti. C'erano altri collegi che interessavano i comuni a retini nel Senato 2, nel quale hanno votato gli elettori di Castelfranco Piandiscoi e loro Ciuffenna. È stato eletto il segretario regionale del PD, Dario Parrini. Un altro, sempre con gli stessi comuni valdarnesi, era quello della Camera 3, dove passa l'ex vicepresidente della Camera, Roberto Giacchetti, sempre targa PD. Infine, nel collegio 12 della Camera, che comprendeva Castiglion, Fiorentino, Cortona, Foiano, Lucignano e Marciano, è passato il ministro dell'economia uscente, Pier Cardo Paduan, che ha battuto il segretario regionale della Lega, Claudio Borghi. Per trovare appunto un'eletta a retina con il Partito Democratico, dobbiamo arrivare fino a Bolzano. Qui, Maria Elena Boschi, è stata eletta alla Camera nel collegio uninominale con il 41,23%. Una percentuale, quella della Boschi, composta però in gran parte dai voti dell'SVP, letteralmente Sud Tirole Force Partai, in italiano Partito Popolare Sud Tirolese, che si attesta al 24,79%. Il PD a Bolzano si ferma al 12,93%.